Concluderei questa intensa carrellata con Andrea Schiavon che è un giornalista di Tutto Sport chiedendogli come lo sport diventa uno strumento potente dal punto di vista della rendita del capitale dal punto di vista di chi fa business sui territori e come l'evento sportivo in sé sia diventato il catalizzatore di queste speculazioni finanziarie Intanto ringrazio anche io dell'invito e appunto io porto un punto di vista quasi dall'altro lato della barricata nel senso che il mio lavoro mi porta a frequentare al 90% del mio tempo forse di più sport professionistico e non sport popolare però come mi capita di confrontarmi con i dirigenti magari che hanno una visione un po' meno miope o magari quando mi capita di fare incontri sul territorio non può esserci sport professionistico se non fai crescere nuove generazioni di sportivi e per esperienza personale se io voglio un atleta di alto livello a volte mi capita che l'atleta di alto livello venga da un milieu sociale elevato ma nella mia esperienza in molti sport diversi diciamo sette volte su dieci, otto volte su dieci l'atleta viene da fame letteralmente cioè un certo tipo di cattiveria agonistica, un certo tipo di rivalsa sociale l'atleta la cerca proprio perché ha avuto un accesso difficile a tutta una serie di cose poi possiamo studiare su quanto ha la maturità lui e le persone che gli stanno intorno manager o altro di gestire il nuovo status sociale e gestire la propria nuova disponibilità economica anche se devo dire non so in che percentuale rispetto ai guadagni poi comunque capita quasi sempre anche l'atleta che arriva a un'affermazione partendo da quartieri popolari un certo tipo di ritorno al territorio dal quale è partito lo dà Ibrahimovic ha fatto un campo nel suo quartiere a Malmo mi ricordo lo stesso Clarence Sedorf aveva fatto un ottimo progetto sociale in Olanda e io stesso l'avevo studiato e qua mi riallaccio a un discorso che faceva lei riguardo ai centri temporanei temporanei è poi un eufemismo comunque quanto lo sport venga utilizzato come strumento di prevenzione si può parlare di microcriminalità o altro ma come diceva lei anche semplicemente prevenzione ha uno stato di disagio quanto la gente si preoccupa che abbiano un piatto più o meno caldo un pasto più o meno caldo ma quanta di questa gente può cadere in stati depressivi o comunque avere problemi psicologici abbastanza pesanti e quanto in realtà magari anche una semplice partita di pallone o un corso possa servire a maggior ragione lei parlava di progetti femminili uno dei campi che ho studiato io l'ho studiato nell'Italia dagli anni venti a oggi adesso per un intervento che dovrò fare tra qualche settimana volevo applicarlo anche ai paesi islamici quanto lo sport possa servire come strumento di emancipazione femminile a me è capitato di intervistare i giochi olimpici di Londra erano due atlete una delle due atlete che rappresentavano l'Arabia Saudita a parte il fatto che erano state portate più o meno come specchietto per le allodole perché ovviamente non potevano né rilasciare un'intervista cioè hanno rilasciato l'intervista però con un accompagnatore uomo alato che ascoltava e traduceva ogni parola o comunque filtrava la conversazione comunque queste erano un paio di suggestioni che erano venute fuori dai loro discorsi invece il mio intervento su sport e rigenerazione beh parte da due o tre dati io sono cresciuto a Padova tra l'altro il parco Milkovic ci giocavo da bambino quindi sono cresciuto all'Arcella quindi tutte realtà che conosco bene però da 11 anni non vivo più a Padova dopo Milano mi sono trasferito a Torino ecco in fatto di archeologia industriale a Torino potresti sbizzarrirti però c'è anche l'archeologia sportiva e anche l'obsolescenza degli impianti sportivi può essere molto rapida vi porto un paio di dati Torino 2006 che da tutti viene indicata come un'olimpiade modello e per molti versi posso garantirlo e testimoniarlo ha avuto un impatto positivo sulla città e sulla vita della città però non a costo zero e magari alcune cose è bene rifletterci sopra anche per non ripetere determinati errori o anche per ragionare su che sport vogliamo ovvero Torino 2006 ad esempio ho lasciato in Alta Val di Susa ieri avevate l'incontro con Vuming quindi sapete benissimo dove è l'Alta Val di Susa a Cesana c'era la pista da Bob ragazzi il Bob è un bellissimo sport però non tra i più praticati quindi fatta l'olimpiade la federazione è riuscita a tenere in vita quella pista per un tot però le piste da Bob come le piste da hockey e tutto ciò che richiede una manutenzione elevata hanno dei costi di gestione molto molto elevati fatto sta che si è deciso che la pista da Bob va smantellata ok adesso c'è un progetto perché forse Club Mediterranea farà una struttura turistica lì quindi vogliono cercare di accollare lo smaltimento a Club Mediterranea altrimenti se non andrà in porto quell'operazione che peraltro immagino che non lo faccia per beneficenza a Club Mediterranea il costo dello smantellamento della sola pista da Bob di Torino 2006 è tra i 5 e i 6 milioni di euro questo per dare un'idea poi immagino che il bilancio di un impianto romano abbia tutti altri costi e qui non stiamo parlando di costruire una struttura ma di smaltire una struttura che non si usa più altro esempio sempre riferito a Torino 2006 il Palaiso Zaki o Palalpi Tour magari qualcuno di voi è andato a qualche concerto lo usano molto per i concerti adesso lo usano a volte per il basket hanno fatto il torneo preolimpico quest'estate è un bellissimo palazzetto non ricordo esattamente per cosa era nato penso per l'hockey per Torino 2006 e quando si sono trovati a dover fare i concerti lì ovviamente se io ho in campo i giocatori di hockey ho un certo numero di persone da evacuare in caso di emergenza quindi tutte le uscite di emergenza erano state studiate per evacuare il pubblico o le squadre però se faccio un concerto il parterre è pieno di gente quindi hanno scoperto successivamente con successivi interventi anche lì molto onerosi che dovevano allargare le porte in caso di evacuazione organizzando i concerti quindi anche lì in fase di progettazione ma anche quando viene pensato l'intero evento sportivo io devo capire se gli impianti che vado a costruire avranno una vita successiva altrimenti devo trovare delle forme di costruzione che non impongano uno smaltimento da 6 milioni di euro perché altrimenti con l'affetto per i bobbisti ma troviamo un altro modo decentriamo altrove dove c'è già una pista da Bob B appunto che è fondamentale per la vita degli impianti sportivi avere impianti che siano polifunzionali cioè io devo poterci fare i concerti devo poterci fare i cineforum devo poterci fare di tutto ma non solo per una questione di redditività economica ma per una questione di fruizione altrimenti quello sarà l'impianto solo degli sportivi non sarà un impianto della città e questo secondo me deve essere per tutti gli spazi terzo discorso vabbè l'abbiamo già toccato sempre nell'eredità di Torino 2006 dove un altro campo da hockey che era in Val Pellice la valle dei protestanti è un bel territorio io sono andato a incontrare lì la squadra che ha in gestione l'impianto e abbiamo fatto una bella intervista si moriva dal freddo dentro perché mi ha spiegato che per contenere i costi che comunque non riuscivano a starci dentro di riscaldamento dovevano tenere tutta una parte dell'impianto al freddo 11 mesi l'anno praticamente lo accendevano solo per le partite perché appunto tenere riscaldato una struttura del genere ha dei costi mostruosi quindi questo è fondamentale da qui andiamo a vedere quella che può essere che è stata la mia esperienza ad esempio a Londra 2012 o anche seguendo altre Olimpiadi l'Olimpiade è mastodontica ha tutto il carico romantico storico, bellissimo però in termini di impiantistica può essere devastante tra gli esempi negativi recenti viene additato Atene 2004 che effettivamente anche lì in termini di fotografie ce ne sono anche lì l'edonismo dell'abbandono si può scatenare a Londra e anche nel caso di Rio ho visto due situazioni che insomma sono state quantomeno intelligenti ma in realtà le hanno fatte solo per una questione diciamo di riprese televisive cioè ad esempio il torneo di Beach Volley il Beach Volley sia a Londra che a Rio è stato disputato con diciamo tribune mobili che alla fine del torneo sono state completamente smantellate erano tribune di quelle classiche che vengono definite di tubi innocenti che però arrivavano a tenere una capienza di 10-12 mila persone quindi sicuramente molto imponenti nel caso di Rio le hanno fatte direttamente sulla spiaggia di Copacabana io non ci vedo nulla di scandaloso se anziché fare un impianto che poi mi rimane e non so cosa farmene se invece si opta per una per una soluzione temporanea l'altra cosa che invece si può pensare poi io non faccio il politico cerco di incrociare le esperienze che conosco e imporre stavo pensando ad esempio a questo grande slancio romano verso lo stadio a Torino hanno fatto lo stadio della Juve anche quello viene additato a modello dappertutto i tifosi del Toro sono un po' incazzati per come ad esempio il comune di Torino si sia sdraiato di fronte alla Juve dandogli terreni dandogli concessioni cubature quindi cioè si è venuto fuori un bello stadio però non è stato proprio come in molti casi un gesto di beneficenza o mecenatismo da parte della famiglia Agnelli è stata un'operazione per fortuna è venuta bene ma non a costo zero appunto dicevo una delle cose che si può fare a livello di impianti è proprio questo mettere una cosa di cui si parlava a suo tempo mi pare sulle operazioni finanziarie la Tobin Tax non era sulle operazioni finanziarie esatto a quel punto tu dici come quando dai una concessione edilizia di un certo tipo chi può fare una lottizzazione è tenuto a fare anche delle opere urbanistiche secondarie ok tu mi fai lo stadio ti concedo di fare lo stadio mi devi garantire un tot di servizi e di strutture fruibili dal non solo magari da quel quartiere ma anche dai quartieri attorno cioè almeno se proprio non posso impedirti di fare quella cosa almeno ho delle ricadute sociali utili quindi questa è una delle cose che pensavo poi invece qui siamo in Trentino ma presumo che un po' di cioè presumo sia un personaggio abbastanza noto essendo un vicino di casa di Bolzano però una delle letture che mi ha stimolato di più in passato erano tutta una serie di scritti di Alexander Langer che era appunto un politico verde morto nel 95 suicida esatto e appunto Langer aveva coniato un antimotto olimpico perché il motto delle olimpiadi è più veloce più in alto e più forte Langer in questa sua poetica verde in questa sua concezione del mondo proponeva invece un più lentamente più profondamente più dolcemente e questo secondo me può essere un ripensamento anche dello sport perché ad esempio quel più lentamente in contrapposto al più velocemente la ricerca ossessiva del record poi porta quasi scientificamente al doping nel senso se io voglio voglio superare prestazioni che sono già il frutto di molto spesso già il frutto malato di anni doppati cioè non è non è quella la strada per vivere uno sport più vero e sul più profondamente più dolcemente è appunto è anche quanto lo sport può incidere sulla società e sulle persone sulla vita reale altrimenti appunto come dice Antonio prima cioè il confine tra sport e intrattenimento sta diventando sempre più più sottile cioè ci viene proposto un uno spettacolo ben confezionato all'interno di stadi che vogliono assomigliare sempre di più a cinema confortevoli dove appunto come può capitare se vai in un palazzetto dell'NBA ti pigli il bibittone mangi bevi stai lì tre ore bello paccioso comodo però è un'esperienza che ti lascia poco attaccato addosso sì personalmente a me è capitato sia di vedere partite NBA poi un'altra volta durante un viaggio in Brasile sono andato invece a vedere una partita di calcio in Brasile è stato più coinvolgente diciamo lo stadio brasiliano e poi invece riguardo ecco a quel parlavamo prima di Langer quel testo la raccolta di scritti più bella che avevo letto era appunto intitolata il viaggiatore leggero è il modello proprio di sport e qua veniamo al discorso di sport di strada che era uno dei temi in realtà appunto noi abbiamo siamo abituati a un certo vissuto di sport che è fatto anche di strutture ma un po' storicamente un po' perché stanno nascendo o si stanno riscoprendo ci sono un sacco di pratiche sportive che necessitano di meno strutture e che sono più fruibili io sono molto legato per formazione al mondo dell'atletica leggera e conosco il mondo della corsa adesso si è passati negli ultimi dieci anni rispetto a vent'anni fa dopo il boom delle corse su strada delle maratone che hanno anche un impatto ambientale non banale perché se voi pensate adesso a Berlino erano stati più sensibili in New York già molto meno voi pensate a quanti bicchierini di plastica si bevono in una maratona di 40.000 persone ogni maratona ha 8 punti di ristoro moltiplicate un bicchierino a ogni punto di ristoro quindi 8 per 40.000 persone e quelli sono solo i bicchierini di plastica di una maratona invece si stanno sviluppando cose tipo il trail qua siamo in Trentino la corsa in montagna è ad impatto zero perché per regolamento ti devi portare dietro tutto nello zainetto compresi i rifiuti che produci oppure mi è capitato di seguire delle corse di ciclismo in autosufficienza cioè ci sono mille varianti che si possono fare con un impatto minore prima voi mostravate la piastra del campo Milkovic che avete sistemato appunto io posso pretendere degli impianti di altissimo livello per la finale di Champions ma dei ragazzi per giocare non hanno bisogno del campo liscio come un green di un campo da golf basta una piastra dove appunto posso accedere facilmente non ho magari la situazione di pusher che si accoltellano a 5 metri e appunto dove la mamma che viene a vedere la partita se ne sta lì tranquilla seduta su una panchina però appunto anche lì il tipo di richieste che formuliamo va modulato pensando a dei bisogni da qui al futuro cioè è veramente altrimenti ci si piega veramente all'ottica del panel e di avere lo stadio grande è bello che viene usato un giorno ogni 15 e tutto intorno c'è deserto o centri commerciali esatto lo stadio di Saint-Denis effettivamente io ci sono stato e ti dico Saint-Denis è già una banlieue con una grandissima tradizione di sinistra addirittura quando ci sono andato nel 2003 per i mondiali di atletica avevano fatto un controvillaggio fuori e per me è stato fonte tra l'altro di uno degli incontri più meravigliosi perché avevano invitato pensate a uno spazio quasi tipo questo e c'era c'era Tommy Smith che è il velocista del pugno alzato a Messico 68 quindi Saint-Denis comunque sono in gamba i ragazzi di Saint-Denis no e quindi ultima cosa chiudo con perché me l'ha fatto venire in mente lei quando parlava della burocrazia o prima ancora Gaia quando parlava della difficoltà anche di di dover in certi casi occupare determinati spazi per poter intavolare un dialogo con le istituzioni questo non non è strettamente legato allo sport però però è una frase alla quale io sono molto legato e che viene da da l'obbedienza non è più una virtù che è un libro di Don Milani ecco giusto per tranquillizzare pur io sono laico e ateo però comunque è una lettura che suggerisco a tutti e questa frase è questa per voi magistrati vale solo ciò che è legge stabilita la scuola invece siede tra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi è l'arte delicata di condurre i ragazzi sul filo di rasoio da un lato formare in loro il senso della legalità dall'altro la volontà di leggi migliori e questo secondo me è lo spirito con il quale bisogna dialogare con le istituzioni per rivendicare determinati spazi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti